Cercheremo di rispondere questa sera insieme, in questi 45 minuti, circa 40 minuti, ma è meglio la SEO on page o è meglio la SEO off page, no? Che è un po' questa diatriba infinita, perché è un po', non so se, basica del mondo della fotografia, come quelli chiamano le Canon, quelli chiamano le Nikon o le Sony, oppure ci sono gli Xbox Sari e quelli del team PlayStation, oppure c'è anche, ecco, siete amanti dei film Marvel, il team Cap e il team Iron Man, no? Quindi ci sarà sempre nel mondo della SEO il team della SEO on page e il team della SEO off page. Cercherò di, ecco, farvi capire quali sono le pratiche che afferiscono all'una e all'altra e soprattutto, appunto, cerchiamo di capire insieme qual è meglio, soprattutto per il vostro sito web. Io, qua, diciamo, non mi ripresento più di tanto, faccio solamente un appunto per spiegarvi che cos'è SEO tester online, ve l'ho anticipato Luca, è una piattaforma che aiuta imprenditori, e-commerce, aziende, web agency, consulenti in ambito digitale, ad analizzare, ottimizzare e monitorare il proprio sito web o quello dei propri clienti, per fare in modo che effettivamente questi siti web si posizionino meglio sui motori di ricerca. Lo facciamo da, ormai, ridendo e scherzando, quasi sei anni, siamo sul mercato, vendiamo SEO tester online praticamente in tutto il mondo, siamo anche noi un po' più piccoli di Siteground, ma altrettanto internazionali, quindi abbiamo clienti davvero sparsi un po' ovunque nel mondo, e lo facciamo però orgogliosamente da Catania, quindi siamo super, super italiani, con assistenza italiana, supporto italiano, e tecnologia assolutamente italiana, esportata in tutto il mondo, quindi, ma vedremo adesso un pochino anche se ho testato online, vi farò vedere qualche screen e ho anche una sorpresa alla fine del, diciamo, del webinar. Che cos'è la SEO Homepage? Partiamo da qui, partiamo proprio dalle basi. La SEO Homepage è sostanzialmente l'insieme, molto, diciamo, anche qui pragmaticamente, l'insieme delle pratiche che sui motori, diciamo, sui motori di ricerca e di ottimizzazione per i motori di ricerca, che possiamo, diciamo, sulle quali possiamo agire in maniera diretta. Sostanzialmente, ecco, è tutto ciò che noi possiamo manipolare direttamente all'interno del nostro sito web, ed è qui che nasce un pochino la diatriba di cui parlava Luca, se è home page, se è on site, perché in realtà ci sono delle pratiche a livello di sito web, vi faccio un esempio, la gestione della sitemap, ok, che potrebbe essere definita non home page, perché le pratiche home page sono effettivamente, appunto, una precisazione che sta ad indicare tutte le pratiche che avvengono su una singola pagina, ok? Quindi, se è home page, singola pagina, se è un site, diciamo, tutto il sito web, in generale, non è che se chiamate uno in un modo o nell'altro, non ci capiamo, ci capiamo uguale. La questione qual è, quindi, è tutto ciò che afferisce all'interno del nostro sito web e sul quale possiamo agire direttamente senza, e tra virgolette possiamo anche, come dire, non esserne, non subirne l'effetto, ok? Perché vi dico questo. Perché invece, dall'altro lato, la se off page, ci arriviamo, ha a che fare con tutto ciò che sta fuori il nostro sito. E in quel caso, in realtà, possiamo, in qualche modo vedremo, agire su alcuni aspetti, ma su tanti meno, proprio perché la se off page non è altrettanto, qualcuno direbbe meno, non è altrettanto manipolabile, non in maniera diretta, non in maniera, come dire, così chiara come possiamo fare con una SEO on page. Vi lascio la to-do list della SEO on page. Quindi, quali sono le pratiche, come dire, che non dovreste mai perdere di vista quando fate SEO on page? Sono queste, sono codice performance, esperienza utente, metatag, contenuti e keyword research, titoli, immagini e link interni. Li vediamo adesso uno per uno, ok? Quando parliamo di codice performance, di cosa parliamo? Parliamo sostanzialmente di tutta la parte brutta, come dire, per alcuni, quantomeno, non so chi di voi è programmatore, sviluppatore, developer, come, diciamo, non so come vi piace definirvi, proprio dico, chi bazica con il codice, magari, potrebbe dire che questa invece è la parte bella della SEO, d'accordo? Per tanti altri, magari, chi fa l'imprenditore, o il marketer, o il copywriter, non so quanti di voi, magari, se volete, scrivete anche in chat, facciamo un po' di casino, facciamo arrabbiare Luca da questo punto di vista, basta che le domande le scrivete nella sezione Ask a Question, ok? Dico, magari potrebbe essere qualcosa di un po' più ostico, un po' più complicato. Perché? Perché quando si deve mettere mano al codice, ci sono tendenzialmente due strade. O si sta a sviluppare, e allora si mette mano al codice, o si ricorre ai, come dire, ai delle mille risorse plug-in, no? Quindi si cerca di fare in modo di lavorare sul codice in maniera indiretta, sfruttando dei plug-in. Potremmo sfruttare qualunque tipo di plug-in, appunto, per le performance, per l'inserimento dei tag di un certo tipo, piuttosto che di un altro, dei redirect, per fare un redirect magari su una pagina in 404. Quindi tutto questo aspetto qui che afferisce alla struttura del nostro sito web è una, diciamo, uno degli aspetti della SEO on-page, on-site, potremmo dire in questo caso. E da questo punto di vista, la parte di codice, la parte di performance, sono davvero molto influenti. Perché? Perché dal codice dipende molto la possibilità e la facilità con la quale i crawler, quindi i bot, quindi gli spider, chiamiamoli come ci piace, quindi sostanzialmente Google, la facilità con la quale Google riesce a scansionare il nostro sito web. E non dimentichiamo mai che più è semplice per il motore di ricerca scansionare il nostro sito web, più per lui sarà chiaro di cosa parla, quali sono i contenuti del nostro sito web, e più per lui sarà facile andare a posizionare le nostre pagine, ad indicizzarle, prima di tutto, ok? Ricordiamoci, Costilla, che indicizzazione, posizionamento, sono, diciamo, concetti differenti. Perché? Perché l'indicizzazione è, a tutti gli effetti, la presa di coscienza da parte del motore di ricerca del fatto che il nostro contenuto, la nostra pagina, il nostro sito web, esista. Quindi lui dice, ok, io conosco questo sito web e lo indicisco, cioè lo inserisco all'interno dell'indice, ok? Questo significa che potrebbe inserirlo in una posizione qualsiasi, quindi in quinta posizione, speriamo mai, ma anche se capita, purtroppo, o in prima, cioè in quinta pagina, o in prima pagina, ok? Quindi un risultato sicuramente molto più ammito, quindi differenza tra indicizzazione e posizionamento. Dal punto di vista del codice, quindi tutte queste azioni permettono ai bot di Google di scansionare in maniera più fluida, in maniera più naturale, in maniera più semplice, più veloce, il nostro sito web. Quindi di utilizzare meglio il cosiddetto crawl budget. Quindi, come dire, il numero di risorse che il motore di ricerca ci attribuisce, che il motore di ricerca attribuisce al nostro sito web, perché immaginate sempre, un motore di ricerca, qualunque esso sia, quindi parliamo di Google generalmente, ma anche di Bing, di Yahoo, di Yandex, qualunque motore di ricerca, impiega delle risorse per scansionare il nostro sito web. Ovviamente il suo obiettivo è fare in modo di fornire risposte ai propri utenti spendendo il minor numero, diciamo, possibile di risorse. Quindi un sito web che è più semplice da scansionare sarà un sito web favorito rispetto a un sito web che è più complesso da scansionare. Semplicemente, banalmente, a partire da un concetto di velocità con la quale può essere scansionato, semplicità e numero di risorse impiegate per farlo. L'altro aspetto è quello relativo alle performance, o performance, dipende se siete della East Coast o della West Coast. Detto ciò, dico, il discorso delle performance è legato a due aspetti. Legato al motore di ricerca, perché ovviamente il motore di ricerca fa delle chiamate al vostro server e cerca di avere indietro delle informazioni. Ma su questo devo dire che voi state su SiteGround, quindi non dovreste avere problemi, assolutamente. Quindi, dall'altro lato, la questione qual è? La questione sulle performance impatta anche un'altra questione, che è qual è il percepito degli utenti. Cosa significa? Significa che non è solo come le performance incidono sulla velocità di scansione dei bot di Google, ma è anche quanto tempo impiegano, proprio appunto anche qui pragmaticamente, le persone a, come dire, a ricevere in risposta sui propri schermi il vostro sito web. Ovviamente, sapete benissimo, non sarò sicuramente il primo ad avervelo detto durante questi webinar o durante le vostre letture online, ogni secondo in più che il vostro sito fa un caricamento, una percentuale X, che dipende un po' anche dalle, come dire, dalle statistiche, comunque una percentuale alta, ve lo assicuro, di utenti, non prosegue il caricamento della pagina e torna in SERP, cerca un altro sito web, cerca un'altra risposta ai propri problemi. Quindi le performance sono una problematica, proprio, come dire, che impatta su quanti utenti effettivamente visitano il vostro sito. Quindi cosa significa? Potete tranquillamente aver creato degli snippet super performanti, esservi posizionati magari in un certo momento bene, ma se a un certo punto l'utente clicca il vostro risultato in SERP e la vostra pagina si carica in 40 secondi, avete voglia a, come dire, posizionarvi bene, il vostro sito si caricherà in 40 secondi e probabilmente gli unici ad aspettare 40 secondi affinché il vostro sito si carichi, sarete voi, e probabilmente anche voi vi annoierete discretamente. Almeno questo è il feeling che ho io quando magari un sito web carica in più di probabilmente due secondi, perché ormai ecco la nostra sensibilità, chiaramente con la velocità delle connessioni e quant'altro si è molto incrementato, abbiamo una sensibilità molto più elevata alle tempistiche di caricamento dei siti web. Non ci dimentichiamo quando c'era 56k, non era un problema aspettare magari 30 secondi e caricasse un sito. Oggi lo è. Secondo, diciamo, è su questo, vi ho lasciato una schermata, vi lascio una schermata di Sotester Online, ad esempio un altro aspetto sulla parte di struttura sono i canonical, quindi tutte le canonicizzazioni. In questo caso vi faccio vedere, ho preso per esempio una piccola scansione sul sito di Forbes con tutta la sezione relativa ai canonical, vediamo che ci sono ad esempio dei canonical non definiti, che non è necessariamente un problema, ma è per farvi vedere che uno strumento come Sotester Online vi dà una mano sulla parte di struttura a comprendere velocemente le problematiche tecniche, se c'è qualcosa che non va. In questo caso i canonical a cosa ci servono? Ci servono, vi faccio un piccolo, come dire, una piccola parentesi, ci servono a dire al motore di ricerca quando c'è una certa risorsa che è canonica rispetto ad altre risorse, che sono varianti di quelle risorse, quindi evitare che il motore di ricerca consideri le varianti come dei duplicati di quella pagina. Quindi in questo caso cosa stiamo facendo utilizzando il canonical che è un aspetto tecnico, un aspetto di codice, stiamo facendo in modo che il motore di ricerca abbia la vita semplificata, perché non va a vedere ogni pagina come se fosse una pagina nuova, ma va a scansionare la pagina canonica e saprà che quella pagina canonica effettivamente ha delle pagine figlie che gli sono state canonicizzate. Quindi quando le andrà a scansionare dirà benissimo, queste pagine esistono, queste pagine possono essere posizionate, ma non c'è bisogno che ci perda tempo perché sono delle varianti della pagina X che ho già scansionato. Questo per darvi un esempio. Secondo aspetto, esperienza utente. Quando parliamo di esperienza utente, e in realtà si lega anche alle performance, parliamo di Core Web Vitals. Questa di avervi messo, esatto, un altro screen qui da se testere online. Quando parliamo di Core Web Vitals, parliamo di una nuova serie di fattori di ranking che sono stati inseriti meno di un annetto fa, tra i fattori di ranking effettivamente di Google in questo caso. Cosa sono i Core Web Vitals? Non voglio entrare nei tecnicismi. Qui vedete LCP, FID, CLS, dentro se testere online, ciascuna di queste cose viene spiegata, viene spiegato quali sono i fattori, i parametri, come intervenire, ci sono tutti i consigli, come risolvere. Quindi ogni volta che c'è un errore, cerchiamo di suggerire anche delle soluzioni pratiche da applicare sui siti web. Ma a parte questo, dico, la questione qual è? La questione che voglio sottolinearvi è il fatto che Google ha, da quest'estate, ha dichiarato che non solo le performance, ma questo lo sapevamo già, incidono e sono fattori di ranking. Quindi giù tutti a sistemare ancora una volta, come dire, la velocità dei nostri siti web, hosting, caching, un po' tutta, diciamo, l'ambaradan che ha a che fare con, appunto, la velocità di caricamento e quant'altro. Ma ha cominciato ad inserire all'interno di questi fattori anche altri aspetti che sono legati, come vi dicevo, all'esperienza utente. E quindi alla UI e alla UX, cioè la user interface e la user experience. Perché questo? Perché il motore di ricerca si accorge, sa benissimo, perché lo sa meglio di noi, probabilmente, che non è solo una questione di il mio sito web è molto performante e può essere, diciamo, aperto in 0,x secondi. Ma dall'altro lato c'è anche una questione di il sito web è effettivamente fruibile dall'utente e navigabile dall'utente, che è un altro aspetto molto importante, perché se il nostro sito web si carica velocissimamente, ma appena ci entriamo dentro, ci sono i fonti minuscoli, ci sono testi con dei contrasti sbagliati che sono illeggibili, i contenuti sono, cioè, i pulsanti sono troppo piccoli, sono sovrapposti nel mobile, escono fuori, insomma, se ci sono delle problematiche dal punto di vista della user experience, queste problematiche, dal punto di vista anche della user interface, ovviamente, queste problematiche impattano, effettivamente, sull'esperienza degli utenti che stanno navigando online. Di conseguenza, Google ha dichiaratamente detto, benissimo, siccome il mio obiettivo è fornire la migliore soluzione ai miei utenti, agli utenti che navigano all'interno del mio sistema, del mio motore di ricerca, come faccio a far fruire il migliore contenuto, non solo con, diciamo, fornendo dei contenuti performanti, ma anche fornendo quelli che sono dei contenuti, come dire, fruibili, quindi che abbiano un'esperienza, che garantiscano un'esperienza di qualità per i miei utenti. E l'esperienza di qualità, purtroppo, per fortuna, passa anche appunto dall'esperienza utente, quindi dalla user experience, dalla user interface. E quindi anche lì, in estate, o se non l'avete fatto, fatelo, cioè passatevi questa primavera, a questo punto, a fare questa roba qui, andate giù di ottimizzazione anche di questi aspetti. Quindi, no font troppo piccoli, no font giganti, occhio al resize, diciamo, degli elementi, dal passaggio da mobile a desktop e viceversa, occhio ai contrasti. In ogni caso, vi dico, su Search Console, ci sono anche dei suggerimenti, il motore di ricerca vi segnala delle criticità. Google, in questo caso, Search Console, ci segnala delle criticità, che poi afferiscono tutte a questi esami, che vi mostro, in questo screen, che sono appunto, LCP, FID, e CLS. Andiamo avanti, perché le cose sono tante. Metatag, ok? Quando parliamo di metatag, anche qui sembra una roba un po' strana, legata al codice e quant'altro. Ve li ho scorporati, perché in realtà, sul codice c'è anche l'ottimizzazione appunto, di tutto quello che ha a che fare con gli script, le animazioni e quant'altro, che impattano sulle performance e quant'altro. I metatag sono sempre, chiaramente, afferiscono sempre all'HTML, quindi al codice della, diciamo, delle vostre pagine, del vostro sito web, ma sono degli elementi un po' più caratteristici, degli elementi anche sui quali possiamo agire, senza, ad oggi, senza andare ad, come dire, a mettere le mani direttamente sul codice. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con dei plugin, come ad esempio, non lo so, RankMath, piuttosto che Yoast, piuttosto che OnlyOneSpecio, che ci permettono banalmente di andare a creare le meta description, di andare a creare i tag title, o all'interno dell'editor di WordPress andare ad inserire, non so, hidden tags, piuttosto che altre cose, quindi possiamo farlo con semplicità. In questo caso, i meta tag, perché sono molto importanti? Perché vanno ad aggiungere delle informazioni alla nostra pagina, vanno a dare struttura, anche in questo caso, perché poi l'HTML serve a questo, serve a dare una struttura, una gerarchia alla pagina, da comunicare in maniera chiara al motore di ricerca. In questo caso, ad esempio, con su testa online, è possibile andare ad individuare velocemente, quelle che sono le meta description, in questo caso, oltre 160 caratteri, quindi quelle che, in media, essendo, avendo molto testo, potrebbero essere troncate sulle SERP, quindi sui risultati del motore di ricerca. Perché succede questo? Perché ovviamente il conteggio non avviene effettivamente in caratteri, quella è una stima, ok? Per anche qui essere pragmatici, perché vi dicessimo, 632 pixel sarebbe un pochino più complesso da, come dire, da comprendere, anche da, come dire, monitorare e testare quando si fa un'ottimizzazione, ma in questo caso, ad esempio, il motore di ricerca va a troncare tutte quelle che sono le meta description, che sono troppo grandi, per, diciamo, rispetto allo spazio che viene dedicato ad ogni risultato all'interno del motore di ricerca. Anche qui, si possono fare degli interventi super rapidi, laser, come dico io, per andare ad ottimizzare questi aspetti, per andare a rendere queste meta descrizioni, ad esempio, più performanti, sia da un punto di vista della visualizzazione, e quindi fare in modo che siano più ordinate, anche, no, più, migliore dal punto di vista dell'impatto visivo, dall'altro lato, migliori anche dal punto di vista del copy, ok? Quindi più accattivanti, con una presenza, ad esempio, di una CTA, la presenza delle nostre, diciamo, delle keyword, magari, che stiamo utilizzando, o per le quali vorremmo posizionarci. Non perché la meta description, in questo caso, per parlare della meta description, sia un fattore di ranking, perché in realtà, diciamo, Google ci dice che la meta description non impatta direttamente sul posizionamento, ma, più che altro, per fare in modo che quella meta description comunichi un'informazione al nostro utente, lo invogli a, come dire, a cliccare sul nostro risultato, e quindi visitare il nostro sito web. Quindi che dirvi, non è un fattore di ranking, ma nei fatti, e nel frattempo, forse l'avete sentito, mi è partito l'assistente vocale, ovviamente, a furia di dirlo, anche parte anche con le pubblicità, ma parte anche quando lo dico, lo dico in webinar, ma questo ormai sono abituato. Vi dicevo, la questione qual è? La questione è che, andare ad ottimizzare la meta description, oppure non essendo un fattore di ranking, diventa comunque un fattore importante per la nostra SEO. Perché? Perché nei fatti incrementa il conversion rate, quindi il tasso di click, che gli utenti che vedono i nostri risultati in prima, seconda, terza, quinta posizione, che appunto cliccano sul nostro risultato, quindi andando ad incrementare effettivamente il numero di visite sul nostro sito web. Quindi non è un fattore di ranking, ma lasciatemi dire, è comunque, rimane comunque un fattore molto importante all'interno degli aspetti SEO, o un page, quindi da andare a sistemare. Così come lo rimane il title, così come lo rimane, ad esempio, la struttura degli URL e quant'altro. Ok, o i meta, ok, i meta tag, ci sono anche tutti quelli relativi agli open graph, alle Twitter card, quindi gli strumenti di condivisione, quindi oggi meta link, title e quant'altro. Ci sono tante possibilità, tante possibilità di ottimizzazione. che possiamo, come dire, attenzionare, ok? Che possiamo attenzionare e che ci permettono di migliorare. Banalmente, dico, non è vitale avere, come dire, la Twitter card o l'open graph, d'accordo? Ma se state ottimizzando il vostro sito web, avete 10, 15, 20, 50 pagine, che sono quelle che vi portano più traffico, dico, perché non perdere 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora del nostro tempo per ottimizzare anche appunto l'open graph, per ottimizzarne la meta description e quindi avere da un lato un conversion rate migliore e dall'altro una presentazione migliore, banalmente, nel caso in cui il vostro URL venga condiviso su qualunque media, su un sistema di messaggistica, piuttosto che un social network, ok? Quindi anche qui, vi ripeto, piccoli interventi ci permettono di avere grandi miglioramenti. Io lo dico sempre nelle nostre live, noi siamo malati del principio di Pareto. Chi non conosce il principio di Pareto si perde qualcosa, perché cosa dice il principio di Pareto? Dice che diciamo il 20% dei problemi genera l'80% dei casini nella nostra vita, ok? Quindi noi dobbiamo risolvere il 100% dei problemi, dobbiamo risolvere quel 20% che hanno l'80% dell'impatto. Stessa cosa, ecco, quando vogliamo fare dei miglioramenti, che vale un po' per tutto questo principio. Cioè possiamo andare a non ottimizzare il nostro sito in maniera stratosferica, pazzesca, ma certe volte o comunque possiamo raggiungere, se è vero il principio di Pareto, vi assicuro che è vero, perché lo abbiamo testato empiricamente più volte, possiamo andare a risolvere molto spesso l'80% delle problematiche di ottimizzazione di un sito web andando ad ottenzionare quel 20% di errori più gravi che possono essere risolti in poco tempo, appunto nel, spesso nel 20% del tempo che è necessario. Quindi il 20% del tempo dell'effort vi genere l'80% dei risultati che penso non sia niente di, cioè che non sia male, ecco, da questo punto di vista. Quindi vi suggerisco di concentrarvi su delle piccole cose, ripeto, meta description, cosa ci vuole sistemare una meta description? Pochissimo, sembra banale, ma un conversion rate del 5% vi porterà 5 utenti al mese, un conversion rate del 10% ve ne porterà 10. Stesso discorso, se scaliamo i numeri con 50 o 100 visite, con 500 o 1000 visite, e allora vi dico, perché dobbiamo andare, è un po' come il concetto dei clienti, cioè costa di più trovare un cliente nuovo piuttosto che, come dire, preservare, far tornare un cliente che abbiamo già acquisito, ok? Sicuramente lo sapete meglio di me, anche se noi di clienti qualcuno lo abbiamo, quindi ci lavoriamo anche su questo. La questione quindi qual è? È fare in modo che chi veda già il vostro snippet clicchi, abbia più possibilità di cliccare quel risultato, piuttosto che andarcene a cercare di nuovi creando nuovi contenuti. Quel contenuto ce l'avete già posizionato? Riceve già delle visite? Ottimizziamo quelle visite lì, facciamo in modo che quelle visite vengano convertite in visite dalla SERP a visite al vostro sito web, ok? Questo per darvi un esempio di, come dire, di intervento. Anche qui i titoli, ne abbiamo parlato, come dire, alla lontana. I titoli, vi consiglio di fare keyword research, perché anche oltre ai titoli ovviamente ci sono contenuti e keyword research, quindi vi parlo di questi due aspetti insieme. Contenuti keyword research, titoli, quindi gli heading tags e quant'altro, cioè lavorate sulla keyword research, perché è la base, è quello che fa veramente la differenza nei, diciamo, nelle vostre strategie SEO. E non ve lo dico per dire, ve lo dico perché è davvero così, perché se sbagliate le strategie di keyword research, se sbagliate le keyword sulle quali puntare, la portiamo, come dire, a maretta, perché tutta, cioè è la base, no? Tutta la strategia che costruiamo, che sia di SEO homepage, quindi l'ottimizzazione dei contenuti, l'ottimizzazione delle ancore e quant'altro, che sia la strategia di link building, di SEO page, basata su quelle parole chiave, cioè se sbagliamo le parole chiave, sbagliamo la nostra strategia SEO, perché andiamo ad individuare dei, degli utenti che non sono in target, ok? E anche qui, state molto attenti quando prendete, ad esempio, delle metri, come quelle che vedete qui, presi dal keyword explorer, di SEO tester online, dove vedete 22.000 visite, 6.000 visite, il volume, il trend, il CPC, la competizione, cioè facciamo sempre le cose ragionate, anche qui dico una cosa che dico spesso, il tool principale, signori miei, è sempre il cervello, ok? Quindi utilizzate SEO tester online, non utilizzate mai SEO tester online se non in accoppiata con il cervello, per carità, proprio ve lo chiedo per favore, piuttosto utilizzate solo il cervello e non SEO tester online, per fare i vostri, i vostri ragionamenti. Perché? Perché non necessariamente una parola chiave che ha tantissime visite è una parola chiave buona per il vostro business, non necessariamente una parola chiave che ha zero visite è una parola chiave cattiva per il vostro business, perché vi assicuro anche che ci sono delle parole che non vengono rilevate dagli strumenti come il nostro o come altri strumenti che trovate sul mercato, perché hanno poche visite, ma magari essere primi su quelle poche visite, su quella parola che genera 5 visite, magari è così in target, che quelle 5 visite vi generano un cliente al mese. Un cliente al mese per certi business può significare svoltare, d'accordo? Ovviamente fate le tutte proporzioni da questo punto di vista, quindi state molto attenti perché dalla qualità della vostra keyword research dipende la qualità degli utenti che visiteranno il vostro sito web, quindi questo è molto importante molto importante perché costruite su un castello che non ha fondamenta, costruite un castello su delle fondamenta che non sono quelle giuste. Anche qui parliamo di ottimizzazione dei contenuti, noi lo facciamo con il SEO Editor, che è il nostro strumento editoriale assistito, vi permette di fare keyword research, seguire tutti i tips, creare gli articoli all'interno della piattaforma e quant'altro. Dei titoli, vi ho detto, gli link tags, quindi gli H1, gli H2, sembrano delle cose banali, anche qui, ma vi assicuro che esista una montagna di siti web, che noi vediamo una montagna di siti web con gli H1 sul logo, cioè perché ci ostiniamo a mettere gli H1 sul logo, su un'immagine? Per quale ragione? Basta, abbasso questa pratica vecera e barbina, ok? Per favore, finita questa live, vi invito tutti quanti a controllare se avete un H1 piazzato sul logo del vostro sito web. In caso, rimuovetelo, ok? E pensatemi ogni tanto, quanto meno stasera, d'accordo? E vi fate un cicchetto, come dire, pensando a questo consiglio, perché vi assicuro ce ne sono tantissimi. Così come ci sono tantissimi siti web che hanno H1, multipli, ora, se avete le section, bene, se invece non avete le section all'interno della vostra pagina, avere 5 H1, effettivamente può non essere il massimo, ok? Poi il motore di ricerca, Google ci dice che non è vero, comunque non è detto che ci debba essere un solo H1, 2H1 e quant'altro, in realtà il mio ragionamento è molto semplice. Google è il libraio supremo, il libraio supremo ordina i libri, come vengono ordinati i libri? Vengono ordinati con i titoli. Se un libro ha un titolo uguale ad un altro libro, è un problema ordinarlo. Se all'interno di un libro ci sono paragrafi con dei titoli tutti uguali, è un problema capire di che cosa parla il libro, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso discorso si, come dire, potremmo portarlo avanti con il, come dire, con i contenuti duplicati, cioè avere dei contenuti duplicati all'interno di un libro è un problema, perché non sa che cosa leggere, arrivi su un contenuto che hai già letto, ma che è sta roba? L'ho già letta, ok? Quindi ecco perché vi dico la seopratica, la seopragmatica, no? Cioè pensate a cosa succederebbe a voi a leggere un libro che ha lo stesso titolo di un altro libro, che ha i paragrafi con dei titoli tutti uguali e che all'interno i contenuti sono ogni tanto nuovi, ogni tanto un contenuto duplicato che ripete qualcosa che avete già letto. Un problema, ok? Quindi vi invito a ragionare anche su questo e anche ad attenzionare tutti i link tags perché i link tags danno struttura, danno formattazione, danno gerarchia al vostro contenuto e la gerarchia è qualcosa che piace al motore di ricerca perché gli dà ordine, gli permette di comprendere l'ordine con il quale sono creati i contenuti, sono ordinati, perdonatemi il gioco di parole, i vari contenuti, i vari pezzi di testo all'interno di un articolo, all'interno di una pagina, d'accordo? Quindi anche qui non la sottovalutate, utilizzate il nostro studio checker, potete utilizzarlo anche gratuitamente per un paio di check al giorno, fatelo, utilizzatelo per vedere se ci sono XH1 multipli, XH1 duplicati, se non c'è l'H1, succede l'H1 sul logo, d'accordo? Quindi questo è un altro consiglio spassionato. E poi link interni. Link interni anche qui fanno parte comunque della SEO home page e fate attenzione anche qui, perché questo è un altro aspetto abbastanza ostico, un aspetto che vi porta ad avere link che si incrociano, pagine senza link, perché io link non ne metto, perché se metto un link poi Google non mi ranca, perché sto passando tutto il link giù, non è vero. Linkate dove è giusto linkare, linkate, linkate le fonti, linkate siti web collegati, cioè linkate tutte le volte in cui linkare è un valore, questo per quanto riguarda sia i contenuti esterni, quindi tutto quello che ha a che fare diventa in qualche modo SEO off page, ma anche i contenuti interni, quindi tra le pagine del vostro sito web. Non fatelo in maniera come dire anche qui barbina, che è selvaggia, potrei dire, fatelo con cognizione di caos, cioè linkate tutti i contenuti che voi pensate siano utili linkare, soprattutto sappiate sempre che linkare gli articoli li mette in relazione, mettere in relazione gli articoli significa in qualche modo indicare rilevanza di certi articoli piuttosto che altri all'interno del vostro sito web al motore di ricerca, perché se abbiamo un articolo che non viene linkato mai da nessuna risorsa all'interno del nostro sito e un articolo viene linkato, non vi dico sempre, ma molte volte, per il motore di ricerca quell'articolo all'interno del vostro sito web avrà un peso specifico maggiore rispetto a quello non linkato a meno di altri fattori, d'accordo? Quindi utilizzate i link interni per distribuire il peso che le pagine hanno all'interno del vostro sito web, sia perché il motore di ricerca darà un peso diverso, ma anche perché diciamo la redazione è ambivalente, anche gli utenti daranno un peso diverso, perché anche lì i link sono uno strumento per passare da una risorsa a un'altra. Più volte voi linkate una risorsa, più è facile che un utente passi da una pagina a quella linkata, d'accordo? Quindi se voi avete interesse che un utente arrivi ad una certa pagina dovete linkarla. Ok? Cosa significa? Significa appunto che i link definiscono la gerarchia non solo per il motore di ricerca ma anche per il vostro, la vostra utenza. Quindi anche lì occhio ai menu perché banalmente i menu sono link, non ce lo dimentichiamo mai. Quando create il vostro sito web dovreste pensare all'architettura a partire proprio dal menu come qualcosa di SEO oriented. Ok? Quindi pensate alle cose che dal punto di vista SEO sono le più importanti. Pensate alle cose che dal punto di vista dei vostri utenti sono le più importanti e andate a rimuovere tutto il resto. Quindi abbasso la proprio la doppia v quella proprio classica quindi abbasso tutte quelle robe lì di menu super pazzeschi con centomila milioni di link con link cose come dire anche non importanti che potrebbero magari stare nel footer potrebbero stare linkati da altre pagine eccetera eccetera quindi attenzione ai link interni. Andiamo avanti e qui vi faccio vedere link inbound outbound follow no follow non mi voglio diciamo soffermare su questo anche qui dico su link follow no follow non è vero che dovete per forza mettere link tutti no follow perché se li mettete do follow allora il vostro sito si prosciuga di non sappiamo quale come dire chi gioca direbbe il mana no questa potenza spirituale del vostro sito web non succede questa cosa linkate i siti in do follow quando pensate che siano delle risorse veramente autorevoli che da oggi a domani non possono cambiare ed essere fonti non autorevoli perché magari il sito web viene venduto ok quindi se devo linkare ansa invento potrei anche pensare di linkarlo in do follow perché noi a domani si sveglia diventa un sito di contrabbando di armi non succede ok e quindi occhio a questa cosa passiamo alla self page self page che cos'è ve lo dicevo all'inizio dicevo è l'insieme delle attività che si svolgono all'infuori cioè all'esterno scusatemi del nostro sito web ok tutto ciò che ha a che fare con l'esterno e su questo aspetto siamo in qualche modo non solo attori ma anche spettatori di quello che succede perché vi faccio un esempio se un sito web terzo linka il nostro sito web noi non possiamo farci niente cioè quel sito ha deciso di linkarci non siamo nelle condizioni tecnicamente di influire su quel link è avvenuto in maniera spontanea o ancora se riceviamo una menzione su un sito web perché un utente dice ah fighissimo usa seotester online ok non possiamo agire sul fatto che quell'utente abbia detto fighissimo usa seotester online per fare un'analisi del tuo sito web quella è una menzione se ci linka quello è un link d'accordo e questa cosa funziona sia nel bene che ahimè nel male cosa significa che non possiamo purtroppo fare niente se non lo so una persona strana decide che il vostro sito web gli fa antipatia prende fa un attacco di black hat seo quindi la seo maligna come la magia nera ok e vi comincia a spammare di link brutti d'accordo presi da siti web come dire non non moralmente come dire accettabili d'accordo su questo chiaramente non vi spaventavate perché i motori di ricerca ormai sono assolutamente smaliziati quindi non è che ormai ste pratiche influiscano più di tanto se non fatte in un certo modo davvero molto molto professionale nonostante si parla di qualcosa che non dovrebbe essere non dovrebbe essere fatto quindi il motore di ricerca oggi se ne accorge sa benissimo che quelli sono dei link manipolati d'accordo quindi non preoccupatevi quando si parla di penalizzazioni solitamente le penalizzazioni non avvengono per queste cose qua perché c'è il competitor si sveglia e vi manda i link dai siti web del deep web e non succede ok quindi dai siti web quelli brutti però purtroppo succedeva in passato e comunque in generale quando un sito ci linka comunica un'informazione al motore di ricerca e questa informazione ha un peso per il motore di ricerca in questo caso vi faccio la tutelista della seo off page sono diciamo più come dire più veloce da questo punto di vista perché banalmente è un po' meno un po' meno tecnica anche alcune cose probabilmente le conoscete già in generale sono molto legate tra di loro sono molto anche concettuali la link building quindi insieme delle pratiche che poi in realtà si lega anche al guest posting ok in qualche modo e l'insieme delle pratiche per fare in modo di generare dei link che rimandano al nostro sito web come avviene avviene come vi ho detto prima in maniera organica quindi quando avviene in maniera spontanea si parla più specificatamente di link earning ok un po' come la seo on site la seo off site la seo on page e quant'altro che quindi anche un po' di sofismi da questo da questo punto di vista però in generale ecco è una distinzione tra i link che riceviamo dall'esterno in maniera organica in maniera naturale e i link invece che sono creati appositamente infatti si parla del concetto di building no? earn è tipo guadagnare no? ce li abbiamo ricevuti li abbiamo guadagnati con la nostra reputazione invece di building li abbiamo costruiti d'accordo? tutto questo insieme di pratiche tecnicamente non è ben visto dal motore di ricerca è sconsigliato dal motore di ricerca dice che Google ci dice chiaramente che non vuole vedere link manipolati nella pratica a saperlo fare bene è un'attività che paga ok? perché permette di dare dei segnali al motore di ricerca di autorevolezza ok? del nostro sito web all'interno di un determinato ambito semantico all'interno di un determinato argomento perché la partita della link building si basa proprio su questo d'accordo? si basa qui vedete vi ho rimesso la questione relativa ai link si basa proprio sull'autorevolezza e altri elementi di autorevolezza quali sono? sono proprio ad esempio i segnali social ok? che anche lì non sono dei fattori SEO diretti ma lo sono indirettamente perché? perché da questo punto di vista vi faccio vedere se questo sito web è stato condiviso x volte ha dei commenti ha una popolarità sui social network un motivo ci sarà quindi per il motore di ricerca quello è un campanello di allarme a tutti gli effetti che dice o comunque di alert non di allarme in senso negativo è qualcosa che comunica al motore di ricerca guarda che quel contenuto su quell'ambito lì quindi l'ambito dei social media è stato preso molto in considerazione dagli utenti perché è simpatico perché è bello perché è interessante perché è utile quindi di conseguenza potrebbe esserlo anche per chi cerca in SERP probabilmente sì il motore di ricerca lo sa ne tiene considerazione quindi i guest post ed è questo il motivo dico fate un guest post ottimizzato fate in modo che anche di quel guest post ma anche dei vostri contenuti ripeto gli open graph e le twitter card siano ottimizzate perché perché appunto favorite in qualche modo i segnali social perché quando quella risorsa viene condivisa viene condivisa con ordine d'accordo con un'immagine con un titolo con una descrizione che sia coerente che sia utile a favorire i segnali social d'accordo da questo punto di vista l'altro aspetto assolutamente importante che si lega a tutto questo che si lega anche al perché facciamo e al perché la link building è così importante perché favorisce la reputazione del brand online cioè migliora il modo in cui il brand viene percepito il numero di volte in cui viene visto in cui se ne parla molto spesso ovviamente magari sono anche degli articoli potrebbero essere degli articoli che parlano in un certo modo del nostro contenuto ovviamente anche qui occhio a non fare delle robe come dire troppo commerciali d'accordo anzi statene lontani quando possibile ci sono modi e modi di fare link building in generale però la reputazione del vostro brand è un fattore SEO off page determinante lasciatemi dire cosa significa che possiamo fare tutta la SEO on page tutta la SEO off page che vogliamo il motivo per il quale non so il sito Apple si posizionerà sempre meglio di qualunque altro sito per la chiave iPhone è perché ha una brand reputation più elevata su quell'ambito semantico rispetto a chiunque altro d'accordo quindi se il vostro competitor ha una brand reputation molto più elevata rispetto alla vostra possiamo fare SEO quanto vogliamo ma non è detto che basti a superarlo anche nel caso in cui la sua SEO sia magari meno ottimizzata rispetto alla nostra perché magari il peso specifico della sua reputazione di brand è così elevato da compensare anche degli aspetti SEO da questo punto di vista d'accordo quindi la questione è che dovreste sempre pensare di curare non solo i vostri aspetti SEO ma anche i vostri aspetti di brand reputation c'è la brand awareness c'è la vostra comunicazione perché in maniera indiretta vanno a migliorare anche quelli che sono non solo come dire le vostre non proprio le dinamiche di ottimizzazione ma quantomeno sicuramente funge da catalizzatore degli effetti delle vostre diciamo attività di ottimizzazione SEO di conseguenza fare una buona SEO e avere una buona brand reputation è sicuramente come dire l'aspetto migliore la situazione la congiuntura migliore che potreste raggiungere da questo punto di vista quindi non pensate che la sola SEO non di solo SEO vive l'uomo non potrebbe dire qualcuno di più celebre di me ma anche di brand reputation aggiungo io d'accordo quindi curate sempre la brand reputation e se qualcosa non vi torna dal punto di vista dell'ottimizzazione potenzialmente mi farei delle domande relative alla reputazione del vostro brand all'awareness del vostro brand piuttosto che quella dei vostri competitor la questione ovviamente è facilmente declinabile anche parlando delle recensioni quindi tutti gli aspetti legati appunto alle al come il vostro prodotto il vostro servizio voi stessi qualunque diciamo attività voi facciate sul web viene giudicata da altri utenti online d'accordo quindi dalle stelline su facebook o su trust pilot fino a quelle le recensioni sul prodotto all'interno del sito web insomma sono tutti anche qui segnali esterni che comunicano al motore di ricerca affidabilità autorevolezza comunque informazioni terze che non sono quelle legate al codice di riprova sociale anche in qualche modo d'accordo che comunicano al diciamo al motore di ricerca che effettivamente quel contenuto è un contenuto del quale fidarsi un contenuto valido ok dove per contenuto ovviamente parliamo di un contenuto nel senso propriamente detto ma anche di un contenuto legato a un prodotto o un servizio e in questo le attività di digital PR PR influencer marketing o altro sono anche qui delle attività che in maniera indiretta esattamente come le recensioni esattamente come i social signals e quant'altro permettono di incrementare la nostra brand reputation perché poi tutto gira lì cioè la link building ci aiuta a rendere il nostro sito web anzi la self page ci aiuta a rendere il nostro sito web più autorevole agli occhi dei nostri utenti e agli occhi del motore di ricerca quindi e chiudo su questo ma quindi qual è meglio perché io lo so adesso che state qui e mi eravate iscritti a questo webinar per sapere questa cosa qui e ve la riservo per questi ultimi minutini ok questa questa chic qual è meglio faccio una citazione che è pilo al rosso pilo al blu cioè effettivamente entriamo nella dana del bianco oniglio diceva qualcuno anche qui abbastanza più celebre di me e io vi rispondo con una frase di Osho che mi piace tirare fuori in questi casi nei miei webinar che dice le persone continuano a lasciarsi sfuggire l'ovvio cioè le persone continuano a non vedere ciò che è semplice poiché pensano che la verità debba essere molto complessa anche qui il mio è un invito al pragmatismo d'accordo come vi ho già detto non pensate a fare le cose ipercomple le strategie super pazzesche di link building eccetera eccetera se avete l'h1 sul logo cioè partiamo dall'ovvio partiamo dalla base cioè la somma fa il totale per ottimizzare il vostro sito web al 100% su questo non si scappa cioè funziona così ok l'insieme delle ottimizzazioni la cosa che ci dobbiamo chiedere è qual è l'incidenza di ciascuno di questi due fattori sul totale cioè incide di più la seo on page o la seo off page quindi mi devo concentrare più sulla seo on page o mi devo concentrare di più sulla seo off page con le mie risorse il punto è che non possiamo sapere perché perché i fattori di ranking non sono pubblici google non ce li dice quindi non li sappiamo la risposta cari miei io non ve la posso dare perché non c'è effettivamente sappiamo però sempre che la somma fa il totale cioè significa meglio riusciremo ad ottimizzare la nostra seo on page meglio riusciremo ad ottimizzare la nostra seo off page meglio si posizionerà tendenzialmente il nostro sito web e ripeto la cosa che sappiamo è che possiamo sistemare la nostra seo on page la nostra seo off page a partire da delle cose semplici ok senza andare a cercare le cose complicate cioè basta veramente aprire se destra online entrare controllare gli errori che vi sta comunicando andare a sistemare ok anche da soli non riuscirete a fare tutto magari perché non siete dei consulenti seo magari non farete tutto benissimo perché non siete dei consulenti seo ok magari lo siete allora farete tutto benissimo quello auguro spero che lo facciate con questo tester online ma in generale sicuramente andrà meglio di prima e sicuramente sarete meglio di tutti quelli avrete dei siti web più ottimizzati e migliori di tutti quelli che questo webinar stasera non l'avranno visto ok quindi avrete più possibilità di superarli sulla seo anche qui estremo pragmatismo quindi prima di tutto io vi invito ad iniziare dalle fondamenta per costruire un sito web solido quindi iniziate dalla seo home page d'accordo se dovete darvi una scaletta di attività da fare e create delle fondamenta solide per il vostro sito web per la vostra ottimizzazione seo per fare in modo che dopo ok a questo punto possiate creare le strade i link i segnali stradali i segnali social i segnali di brand reputation le digital PR l'influencer marketing che convogliano ulteriore traffico convogliano ulteriore brand reputation convogliano ulteriore utenti verso il vostro sito web ma che è già ottimizzato bene e che quindi potrà assorbire pienamente tutto il beneficio della seo off page vi faccio l'esempio degli esempi è inutile che andate in palestra e prendete gli integratori dopo una settimana che fate palestra prima dateci sotto di ciclette e di ghisa poi avrà senso come dire prendere gli integratori quando sarà il momento di integrare e non pensate neanche che gli integratori cioè come come le pubblicità siano dei sostitutivi rispetto a un'alimentazione sana e corretta vi toccherà fare un'alimentazione sana e corretta quindi prima ottimizzate la seo on page poi fate la seo off page e non pensate che va bene fatta una volta fatta per tutte la seo off page la seo on page vi toccherà mantenere un'alimentazione sana dal punto di vista della seo per tutto il tempo quindi vi toccherà continuare ad ottimizzare la vostra seo on page costantemente mentre sopra inserite la seo off page che fungerà per il vostro sito web da integratore aiutandovi a farlo crescere ancora più velocemente basandovi ripeto su delle basi solide ok spero che questo vi sia chiaro come concetto io in ultimi se chiudo perché credo di essere leggermente lungo per darvi tempo anche per le domande dicendovi che abbiamo lanciato una promo che dovreste avere il link ma ve lo rilascio qui anche sulle slide una promo in partnership con SiteGround per come dire questo questo san valentino per far fare pace alla seo on page alla seo off page almeno in questo momento di di grande amore quindi vi lasciamo con uno sconto del 40% valido su tutti i piani seo tester online e vi anticipo che abbiamo piani in questo momento con questa promo a partire da circa 10 euro al mese ok sia per i piani mensili che per i piani annuali che potete attivare fino a giorno 20 quindi fino a domenica si tratta di una promo esclusiva ma ci tenevamo a farvela avere il link lo trovate lì ve lo trovate anche in chat e con questo credo di aver finito e vi ringrazio mi dovreste rivedere eccomi ciao ci siamo ho messo il link anche per comodità nella bottone che vedete qua che ho scritto promo esclusiva perché è sicuramente qualcosa di vantaggioso visto che hai fatto vedere un po' di screen del vostro servizio e sicuramente è interessante poterlo provare proprio per tutte le cose che hai citato intanto ti ringrazio perché sei stato chiarissimo ho amato letteralmente tutte le metafore che hai fatto perché sono sono concrete sono verissime e si potrebbe quando si parla di SEO si potrebbe parlare per magari ore giorni mesi c'è un mondo dietro come dicevi te ci sono degli elementi da quali si può partire che sono per esempio gli elementi di SEO on page e poi passare alla SEO off page poi in realtà c'è anche tutto un mondo di quello che hai citato all'inizio che sono strettamente collegati alla SEO anche se tendenzialmente non sembrerebbe come la velocità e le performance di un sito un'altra cosa che è stata menzionata forse passata sotto le righe ma che è sempre importante è la qualità dei contenuti perché poi noi possiamo metterci a lavorare quanto vogliamo sull'ottimizzazione del sito ma se scriviamo cose che non sono inerenti interessanti per i nostri per i nostri utenti per l'utenza in generale Google stessa sta penalizzando sempre di più quella che è la bad quality dei contenuti all'interno dei siti e quindi fantastico davvero grazie mille grazie a voi siamo andati un po' lunghi ma lasciamo spazio alle domande io non dico più abbiamo tra virgolette poche domande ne abbiamo 13 in questo momento che noi sono in realtà pochissime perché l'ultima volta che l'ho detto me ne sono ritrovate 50 quindi cerchiamo di rispondere alle domande però se volete fare domande non vi preoccupate fatele nella sezione Ask a Question e e e vi rispondiamo live parto subito con le prime domande perché altrimenti sforiamo di tantissimo e chiede Emanuela ciao gestisco il sito di un'azienda che opera nel settore medicale dove le parole chiave sono poche e specifiche spesso ripetitive in questo caso quale strategia SEO è meglio attuare? allora lasciami dire lasciami dire perché ti concentri sulle parole chiave non ti cioè le parole chiave si sono ripetitive potrebbero essere ripetitive ok secondo me non è verissimo però dico facciamo pure che siano ripetitive le parole chiave d'accordo intese come tali ma sono ripetitivi i problemi che hanno i tuoi utenti cioè i problemi che hanno i tuoi clienti cioè espandi dalla parola chiave i problemi che hanno gli utenti quindi parti da una parola e arriva un concetto se non so invento ok perché sono sempre sempre capelluto il tuo sito web a livello medico parla di capelli tricologia ok sì magari ci saranno le parole chiave quindi cadute dei capelli o quant'altro però ci sono n argomenti per i quali potresti incuriosirmi perché io magari ho problemi con i capelli ma quali prodotti potrei utilizzare che magari non sono strettamente legati all'operazione però potresti dire guarda nel contenuto se il problema è grave devi fare un intervento faccio un esempio degli esempi ma intanto potresti cominciare ad utilizzare dei prodotti che ti aiutano a mantenere la qualità del tuo quindi non parla di qualcosa che è direttamente che è strettamente connesso all'ambito medicale ma a qualcosa che comunque risponde alle mie esigenze di utente di cliente d'accordo quindi se hai necessità di espandere le parole perché ti sembrano poche espandile dall'altro lato ti dico cerca di approfondire lo stesso argomento da più punti di vista perché poi magari come dire le domande che si fanno agli utenti per un certo tipo di problema sono bene o male le stesse quindi dici tu ma risposta a quelle che devo fare beh risposta a quella ad esempio potresti intervistare non lo so invento medici diversi che raccontano casi diversi potresti raccontare casi studio delle vostre attività quindi ci sono tante possibilità anche in realtà a prescindere dalle parole chiave strettamente dette ecco vi dicevo occhio perché non sempre la parola chiave è la risposta perfetto perfetto chiarissimo vedo la seconda domanda che in realtà parzialmente è già stata risposta di Matteo che dice ciao ho un sito di promozione di lezioni di surf a Fuerteventura e ho anche un punto com da questo devo iniziare la parte di ottimizzazione di promozione cosa è meglio fare prima che dici qualsiasi cosa dico che in realtà hai già parzialmente risposto nell'ultima parte della tua presentazione diciamo che la domanda è un po' generica perché quando si parla di iniziare con un sito forse riprendo un attimo il discorso che facevo prima quello da cui bisogna partire è sicuramente creare contenuto creare contenuto che sia di qualità avere dei servizi alla base che ti proteggono alle spalle che ti permettono di avere un sito che è sicuramente performante sicuro e quant'altro e poi iniziare mano a mano a lavorare con la SEO poi lì ovviamente nello sviluppo di quelli che sono i contenuti è sicuramente importante seguire tutte quelle che sono le prassi della checklist che abbiamo visto secondo me per la parte on site inizialmente per un sito perché andare a lavorare su quelle che sono le questioni di off site quando un sito è agli inizi è difficile di per sé perché non si ha una reputation però lascio a te no no assolutamente lo dicevo sicuramente io ti consiglio di iniziare appunto dalla SEO on page on site cosa come preferisci chiamarla e appunto lavorare sulle performance lavorare sull'esperienza utente e cercare di ottimizzare come ti dicevo quei aspetti di base che certe volte sembrano delle subitagini ma che spesso vengono veramente sottovalutati e presi sotto gamba perché magari il sito web è stato in mano a uno sviluppatore che ha sviluppato il sito non è un SEO e magari ha trascurato quegli aspetti ma perché magari non gli tocca nemmeno se dovessimo essere dei puristi fare diciamo lavorare su quegli aspetti riprenderli in mano andare ad ottimizzare ti permetterebbe già di avere di partire da uno scalino più in alto rispetto a chi non lo fa ok e sono tanti sì 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 assolutamente riformo un attimo la domanda di Paolo perché credo che credo di leggerla nel modo giusto nel caso Paolo 10 se sbaglio lui chiede come è possibile attrarre gente sul proprio sito tramite i social media in chiave SEO credo che la domanda sia si possa fare in questo modo posso utilizzare social media come Instagram TikTok e chi più ne ha più ne metta lavorando sulla SEO in modo che poi la ricercabilità di parole chiave contenuti passi attraverso i social media e porti l'utenza al mio sito allora ci sono due risposte la prima risposta è sicuramente come dicevo i segnali social sono assolutamente importanti quindi avere una pagina che genera traffico al sito web avere una pagina che genera like commenti condivisioni discussioni buzz online sicuramente lancia dei segnali al motore di ricerca questo è un aspetto l'altro aspetto in realtà è la come dire la possibilità di indicizzare determinati contenuti all'interno del motore di ricerca tramite social network esempio su tutti le notizie di twitter che possiamo trovare all'interno della SERP d'accordo con un aspetto però è come dire è una nicchia ulteriore aspetto è possiamo fare SEO all'interno dei social media perché non ci dimentichiamo che i social media hanno le barrette di ricerca e quelli sono effettivamente dei motori di ricerca d'accordo esempio banale si può parlare di SEO su LinkedIn quindi per farvi trovare utilizzare determinate parole piuttosto che altre all'interno quindi far trovare banalmente la pagina del vostro del vostro store piuttosto del vostro brand e quant'altro si possono fare dei lavori sempre legati alla keyword search e alla redazione dei contenuti all'interno delle pagine dei social media per comparire più facilmente sui risultati all'interno del social media quindi sono tre in realtà argomenti differenti ma tutti tre afferenti alla SEO come dire sto leggendo un po' le domande cercando di riformularle in chiave SEO il più ottimamente possibile sto facendo anche un'operazione di ottimizzazione del testo allora chiede Simonetta chiede in realtà un consiglio sui font la ribalto in questo modo secondo la domanda è i font utilizzo di una tipologia di font o di una dimensione di font ha ripercussioni poi su quella che è la SEO di un sito visto anche quello che citavete sui core web assolutamente sì assolutamente sì soprattutto sicuramente la dimensione ok cioè scrivere testi veramente troppo piccoli o veramente troppo grandi viene preso in considerazione dal motore di ricerca come qualcosa che non va ma perché se è difficile leggerlo è un problema per gli utenti è un problema per il motore di ricerca proprio in maniera super super banale la tipologia di font beh su quella lasciatemi dire che in generale per una questione proprio di leggibilità cercherei di evitare sempre i font graziati ok quindi quelli con i ghirigori e quant'altro quindi cercherei di utilizzare ma se girate un po' online basicamente online sulle piattaforme più comuni vedete sempre che i font non sono tendenzialmente graziati sono molto squadrati perché permettono di avere una leggibilità migliore d'accordo quindi semplicemente è questo e Alessandro leggo in chat al volo dico Alessandro dice qual è la dimensione giusta la dimensione giusta dipende un po' anche dal dispositivo ovviamente sul quale lo andiamo lo andiamo a leggere sicuramente non mettete i testi a 10 pixel perché è un problema sembra tenere un occhio al mobile 12 14 16 neanche dico metterli a 64 pixel perché anche lì potrebbe essere un problema no no poi per la questione appunto delle del posizionamento comunque del valore che Google affida al vostro sito adesso sulla leggibilità la user experience mobile è diventata forse una delle cose più importanti negli ultimi tempi quindi assolutamente bisogna tenere d'occhio quella che è la user experience a livello mobile vado avanti con una domanda di Paola che fa una domanda sul suo caso sulle opere d'arte lei in pratica anche qui mi interpreto dice che avendo un sito di opere d'arte vende sia pezzi unici che pezzi multipli e che diciamo saranno repliche e chiede sulle quali delle due investire forse tempo a livello di SEO che qua la risposta potrebbe essere dipende molto da quello che è il tuo interesse dipende molto dal tuo business dipende molto dal tuo business cioè io dico sempre ve l'ho detto in apertura la SEO è un canale di marketing cioè uno strumento per fare business quindi la vera domanda è tu a livello di business su quale dovresti investire di più questa domanda risponderà alla diciamo alla seconda domanda quella concatenata ed è su quale dei due aspetti dovrei investire di più quando faccio SEO ma è la stessa risposta che ti dai se dovessi chiederti su quale delle due tipologie dovrei investire sui social media o su qualunque altra attiva sulla cartellonistica ok semplicemente una declinazione dei tuoi obiettivi di business sì sì esatto vale per tutto vale se io domani devo andare a fare pubblicità televisiva per un milione da spendere lo si vede tantissimo per esempio quando si va a lavorare sui banner pubblicitari online tendenzialmente si hanno pochissime righe di testo caratteri utilizzabili e tu magari vendi un milione di cose che cosa vai a selezionare vado a selezionare io che faccio hosting vado a parlare di hosting condiviso di hosting wordpress di cloud che cavolo vado a a scrivere in quelle poche righe di testo quindi bisogna fare una selezione che è puramente lato business ovviamente in base a quelle che sono le analisi di mercato e di di strategia di business che si sono fatte e bisogna decidere poi ovviamente su cosa investire risorse e in questo tempo anche caratteri chiede invece in man nel frattempo le domande crescono eh ma è ma è ma è capito è una questione risolta sarà sempre così allora facciamo una precisazione se le domande diventano troppe e complesse da gestire tutte live altrimenti faremo una live di due ore io mi sono già messo d'accordo che faremo risponderemo alle domande offline a quelle a cui non riusciremo ovviamente a rispondere online anzi grazie per la disponibilità chiede ma gestisco un e-commerce di abbigliamento che si avvale di un gestionale il problema è che quando utilizzo questo gestionale mi vengono duplicate le tag e meta intanto ti chiedo è un problema e poi vabbè lei chiede anche come poter bypassare questo problema magari mi dite la soluzione ma mi verrebbe da dire lì è un problema di gestionale e quindi bisognerebbe andare a contattare quelli che gestiscono i fornitori del gestionale per capire da dove ha origine questo problema intanto ti chiedo è un problema la mia faccia dice la mia faccia dice la mia faccia è questa sì è un problema è un bel problema e tocca parlare con chi fa il diciamo il gestionale dell'e-commerce esatto esatto domande massimiliano che speriamo non sia in live perché non seguirà mai più una live eh no invece gli abbiamo fatto un gran favore perché gli abbiamo detto più gestionale allora chiede massimiliano per un magazine tech online che tipo di seo ha senso e ha senso fare l'ho reinterpretato così ha senso fare seo quando si fanno news assolutamente immagino che la domanda derivi dal fatto perché c'è molta ovviamente dinamicità nel lancio di contenuti assolutamente sì ha super senso lavorare sui trend quindi lì la keyword research è ancora più più spinta si basa spesso su veramente molto sui trend ancora più che sui volumi di ricerche magari perché è un trend che è emerso da pochissimo non ci sono ancora neanche sui dati sui sistemi come seotester online o altri dati fattivi perché spesso non lavoriamo esattamente in tempo reale ci sono dei trend che nascono e muoiono nel giro di tre giorni d'accordo non avrebbe neanche senso per noi andarli a recepire però lì c'è lo strumenti banalmente Google trend che fanno emergere questo genere di aspetti e sì ha assolutamente senso si possono fare delle attività SEO molto mirate ne cito una su tutto quello che ha a che fare con Google Discovery o Google News ok che ha delle dinamiche particolari che ha delle dinamiche a sé stanti che hanno chiaramente a che fare con la SEO che vi permettono di attrarre più traffico su un ambito quello delle news che è assolutamente come dire flash no che ha delle tempistiche molto molto ridotte altra cosa la lancio come dire e tiro lancio la pietra e nascondo la mano attenzione ai contenuti nei siti di news tutti quei contenuti che man mano come dire vanno a morire perché sono contenuti due anni fa che non generano più nessun tipo di traffico perché ovviamente la news non è più in alcun modo utile che vanno gestiti perché se non gestiti creano una montagna di link una montagna di pagine una montagna di roba che come dire come nelle piante quei rami morti che giucciano vitalità dalla pianta e non permettono come dire alla pianta di risplendere nella sua in tutta la sua bellezza invece certe volte è meglio tagliare nel modo corretto quindi gestire gli archivi gestire il come dire i redirect tagliare dove si deve tagliare perché banalmente ci sono delle pagine che magari potrebbero neanche essere state indicizzate allora a quel punto via direttamente ok possiamo pensare addirittura di toglierle o di gestire le pagine perché ovviamente la quantità di contenuti è elevatissima tutti i giorni si pubblicano news su news e questo crea un sovraffollamento anche per il motore di ricerca una difficoltà nell'andare a scansionare un sito che magari è enorme di cui non so invento le prime cento pagine sono quelle più utili perché sono le notizie degli ultimi tre giorni sto dando dei numeri ok no no chiaro poi dipende anche lì dalla tipologia di news ci sono news che hanno un valore che finisce muore nello stesso momento in cui viene creata assolutamente ci sono news che possono essere in realtà interessanti ripescate rimodellate e aggiornate in modo che l'articolo possa essere lavorato a livello in chiave SEO perché possa essere riletto con gli aggiornamenti esatto questa news che non è oggi il Milan ha vinto 2 a 0 ma è è stata lanciata Shiba e andando a lavorare su quel contenuto non rendendolo occasionale si può lavorare su dei contenuti che possono essere rispescati sempre interessanti esattamente chiede Massimiliano se lo conosci i plugin Glossary lo conosci intanto te lo chiedo no non lo conosco perché lui chiede se è utile per la SEO che io sappia però veramente lo dico e lo nego i plugin Glossary lui chiede se è utile per la SEO o se appesantisce inutilemente il sito allora io lo conosci ma non posso dare una risposta definitiva tendenzialmente viene consigliato anche in chiave SEO perché ti permette se è lo stesso plugin di cui stiamo parlando di creare quelli che sono glossary diciamo di keyword ma in realtà di tutte quelle che sono delle definizioni di alcune parole quindi se tu vai se tu parli di pesca e hai un insieme di parole che le persone potrebbero non conoscere o che il motore di ricerca potrebbe non conoscere o confondere con altre tu dai delle definizioni che possono supportare il riconoscimento da parte del motore di ricerca di queste parole però tendenzialmente che io sappia viene consigliato comunque come investimento diciamo sulla parte SEO però non vuoi la vera domanda secondo me Luca è utile per i tuoi utenti c'è un valore aggiunto per i tuoi utenti il fatto di avere un glossario all'interno del tuo sito web gli fornisci delle informazioni che potrebbero non avere nell'immediato tramite il sito web e che diciamo tramite l'articolo magari che stanno leggendo e che dovrebbero andare a cercare su Google e invece tu gliele fornisci direttamente all'interno del tuo stesso sito web secondo me se la risposta è sì a senso avere un plugin che ha a che fare con che crea un glossario all'interno del tuo sito web o una pagina glossario qualunque sia la soluzione che vuoi utilizzare al netto del fatto che ovviamente non sia un plugin super pesante che come dire mette la palla al piede al tuo al tuo sito web leggo una cosa anche qui Luca scusami se ti come dire se ti bypasso leggo una integrazione una domanda nella chat però vorrei recuperarla anch'io perché tendenzialmente però era interessante rispetto a quello che dicevi prima esattamente url che non generano più traffico diciamo tecnicamente come si devono eliminare semplicemente facendo cancella da wordpress questa è una roba ragazzi che non si fa cioè non fate cancella non fate elimina le pagine da wordpress e basta perché quando eliminate le pagine da wordpress create delle pagine che non sono raggiungibili quindi se quella pagina non genera traffico non è stata indicizzata bene pure così non esisteva per google non esisteva prima non esiste ora non esiste più neanche per voi ma se per caso quella pagina è stata indicizzata sul motore di ricerca se voi la cancellate da wordpress genererà un codice 404 quindi una pagina una page not found ok quindi dovete gestirle eventualmente con i redirect quindi non solo dovete cancellare il contenuto ma dovete fare i redirect dell'url a un'altra pagina quella chiaramente più prossima al contenuto che era precedentemente all'interno di quella pagina quindi occhio a questa cosa non cancellate le pagine a buffo perché le volete cancellare sì sì no correttissimo infatti la volevo recuperare perché era sicuramente interessante fare una chiosos questo chiede Alessia anche se in realtà abbiamo già risposto cioè non aveva risposto nel caso specifico ma la risposta è già uscita lei chiede consigli di fare SEO home page per un sito di una casa editrice sì perché non dovremmo fare SEO home page perché non dovremmo fare SEO home page per un sito di una casa editrice assolutamente sì la vera domanda sarebbe perché non dovresti fare qualsiasi sia il tuo sito qualsiasi sia il tuo documento SEO home page posso capire forse e comunque non mi trovo tanto d'accordo chiedere se ha senso fare SEO off page perché comunque richiede più interventi diciamo è più complesso richiede un diverso tipo di effort un approccio diverso esatto ha comunque senso però posso già più capirlo quando si parla di SEO home page per tutto quello che abbiamo visto prima ha sempre comunque senso cioè non bisogna sempre capire qual è lo svantaggio o il vantaggio di fare una cosa gli svantaggi se vogliamo sono in termini di soldi e tempo ma che comunque sono dei vantaggi nella prospettiva di creare un business o un'attività quindi tutto quello che è tempo investito ha valore rispetto a un'attività che abbiamo ha valore e poi dico Luca ma se lo chiedi ma se lo chiedi a me cosa ti devo rispondere ma chiaramente ma sono di parte ma no assolutamente assolutamente va bene allora vediamo sono siamo un attimo fuori se vai se ti va facciamo ancora un paio di domandine giusto per riuscire a poterne alcune chiede Sandro se trasferisco tutto il sito su un altro URL per il motore per il motore di ricerca io riparto da zero questa è una domanda curiosa eh già eh già o quasi ok diciamo che ci sono un po' di di materiali che parlano di questo perché è sempre una cosa controversa tendenzialmente nuovo URL nuovo sito no perché nei fatti eh o quantomeno in partenza poi magari il motore di ricerca c'è come se se prendete casa vostra e la teletrasportate in un'altra via dite sì è la stessa casa però prima che gli altri ci credano ce ne passa un po' no? cioè devono vederla devono entrarci devono conoscerla e poi man mano come dire inizieranno a comprendere che effettivamente è quella casa l'altro aspetto è ma se avevate tutti i cartelloni tutti i cartelli segnaletici che indicavano quella via e voi vi trasferite in un'altra via tutti quei cartelli che fanno quindi esempio se avevate tutti i link che indicavano al vostro vecchio url e voi spostate url il vostro sito su un altro url banalmente non verranno reindirizzati i link cioè i link linkeranno sempre al sito precedente e quello magari verrà fatto redirect sul sito nuovo d'accordo? ma per il motore di ricerca stiamo linkando sempre il sito di prima ok? che è stato cambiato quindi in qualche modo sempre non è vero che è lo stesso sito qualcosa è cambiata ok? e quel qualcosa generalmente insospettisce il motore di ricerca poi magari si ricrede ci pensa però ecco è molto frequente scherzi a parte è molto frequente avere un drop quindi un calo di traffico quando si fa un cambio di url e va gestito anche molto bene con tutti i redirect dovuti nel modo corretto cercare di fare un recupero di tutti i link appunto che diciamo rimandano al vecchio sito cercare di spostarli sul nuovo non sempre è facile insomma ecco se potete evitarlo consiglio da amico evitatelo quando possibile no no verissimo poi ci sono anche le grandi società che fanno rebranding totali delle loro delle loro attività con cambio url naming e tutto però si parla anche di operazioni che chiedono anni investimenti e quant'altro rispondo al volo ad Alessia che ho visto che scriveva che diceva intendevo per quanto riguarda la casa editrice consigli pratici per la Seon Page rimane ma anche lì qui lascio dire a te rimane un po' quello che è il consiglio come dicevamo ha sempre senso fare attività di Seon Page a sempre fare più o meno tutte quelle che sono le operazioni che sono state menzionate all'inizio del webinar per quanto riguarda la Seon Page il fatto che tu ti occupi di una casa editrice piuttosto che di un venditore che vende automobili di una rivendita in realtà le operazioni di perfezionamento e di ottimizzazione di tutte quelle sono le pratiche SEO si ripercuotono nello stesso modo quindi quando si parlava di metatag di titoli di keyword research cioè tutte quelle operazioni che poi con la presentazione vi verranno inviate sono da da perseguire allo stesso modo non so se vuoi aggiungere qualcosa no aggiungo semplicemente ovviamente cambia il genere di applicazione cambia se hai il sito della tua casa editrice effettivamente all'interno magari l'e-commerce o non all'interno l'e-commerce quindi se effettivamente vende il prodotto o non lo vende perché cambia perché magari su e-commerce ci sono diciamo delle dinamiche delle accortezze particolari che conviene utilizzare banalmente dico hai la stessa versione la versione con copertina rigida la versione con brossura del dello stesso libro se le pagine sono simili magari ci sta a fare una canonicizzazione di un URL un altro cosa che magari nel caso in cui avessi un altro tipo di sito web magari hai i due prodotti tutti e due sulla stessa pagina non lo fai quindi dipende sono magari degli accorgimenti che puoi fare in un determinato modo piuttosto che un altro ma come dire siamo sempre lì la base rimane quella il consiglio che posso darti è lavora sulla keyword research cioè lavora su ciò che è utile per i tuoi utenti perché dovrebbero visitare il store della tua casa editrice di cosa parlano le tue collane le collane che tratti intercettiamoli in questo modo andandoli a beccare a pescare da fuori no? rispondo al volo a Saad che chiede i dettagli per quanto riguarda l'offerta SEO guarda puoi cliccare sul link adesso dopo quando vuoi sul bottone che c'è qua sotto scritto promo SEO esclusiva e vieni reindirizzato direttamente su quella che è la promozione e puoi vedere tutti i prezzi e cosa includono i vari piani quindi puoi farlo direttamente così dai facciamo l'ultima domanda ultimissima va bene ci stai? sì allora intanto che mi si stanno scalando perché stanno stanno scrivendo non ho non ho mai capito come formulare la frase chiave che mi chiede di inserire gli host hai dei suggerimenti? c'è differenza con la metadescription? frase chiave in realtà sto pensando a cosa chiede gli host però lascio sì non penso sia non mi ricordo se è la keyword la keyword esatto penso sia la keyword penso sia la keyword non ricordo neanche io poi magari c'è stato lo design io non ricordo però c'è l'inglese però da una parte c'è la keyword e al di sotto c'è la metadescription nella quale ovviamente ha senso che nella metadescription ci sia sia utilizzata la keyword la keyword solitamente non deve essere un insieme complesso di parole cioè non deve essere mi piacciono i webinar di Siteground ma deve essere per esempio webinar Siteground o similari e all'interno perché i webinar Siteground di cosa trattano i webinar Siteground esatto magari può essere una domanda di un utente ah ok esatto esatto bisogna andare a rintracciare anche questo questo è esattamente un suggerimento giusto e poi nella description andare a prendere questa keyword dando giustificazione o spiegazione più ampia di quello che è l'argomento di quel contenuto di quella pagina quindi comunque si sono in generale diciamo che la keyword la keyword nasce viene fuori da come dire uno studio che tu fai la keyword research ok poi il fatto che tu lo inserisca all'interno di Yoast è semplicemente un espediente con il quale quel software permette cioè quel software ti permette di fare un match con le indicazioni che sono state fatte un po' come anche noi facciamo quando utilizziamo il SEO editor quando tu utilizzi il SEO editor di SEO tester online tu scrivi noi ti chiediamo a monte qual è l'ottimizzazione target che tu vuoi raggiungere perché ovviamente è su quella che io baso le analisi sul testo che tu scrivi in tempo reale per capire se effettivamente stai scrivendo qualcosa che ha come dire chance di posizionarsi per quelle determinate parole chiave quindi non è tanto importante dove lo scrivi ma è importante per quale keyword in generale tu voglia ottimizzare quella pagina specifica potresti anche non metterla dentro Yoast il sito web si ottimizza e si posiziona lo stesso anche il suggerimento di Alessandro è valido nel senso che è vero che Yoast quando semplicemente il sistema ti fa vedere che se la parola chiave è quella dello snippet va bene lui ti dice ti dà l'ok ti dice ok stai facendo una cosa una cosa giusta hai fatto benissimo Alessandro allora diciamo che siamo andati lunghissimi avevo detto che era un'ora ma in realtà ci siamo prolungati ci sono ancora delle domande ma come vi dicevo perdonateci stiamo andando veramente lungo rispondiamo offline a quelle domande visto che ci sono anche delle domande direttamente su Sitegram quindi sarà mi apri muro ovviamente rispondere e detto questo io devo ancora ringraziarti nuovamente per la disponibilità per tutto quello che ci hai raccontato per la chiarezza sempre a voi per l'ospitalità e figurati la chiarezza veramente con il quale hai parlato di tutte le tematiche SEO che sono sicuramente interessanti e magari avremo modo ancora di parlarne grazie ovviamente per l'offerta che avete fatto voi di SEO del testore online per le persone che hanno partecipato a questo webinar per i nostri clienti e cosa dire allora innanzitutto a chi ci segue grazie 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 come al solito siete in centinaia e vi si vuole bene il mese prossimo in realtà fra poche settimane perché l'8 marzo la festa della donna faremo un nuovo web è il mio compleanno perfetto allora sei obbligato a venire a seguirci parleremo di cookie ma parleremo di cookie diciamo sull'evoluzione che cookie stanno avendo perché immagino ormai lo sapete tutti quanti stanno per andare a morire o a scomparire quelli che sono chiamati cookie di terze parti si parlava del 2022 diventerà il 2023 ovviamente si parla di Google perché c'è già chi ha messo il remi in bar che ha già eliminato i cookie di terze parti ma parleremo di questo e non solo di che cosa significa perdere i cookie di terze parti per l'internet ma cosa significa per voi che avete un sito web soprattutto se vi utilizzate i cookie di terze parti quindi come approcciarci a questo nuovo mondo a questo nuovo modo di fare advertising e comunicazione e retargeting e quant'altro questo solo per dire che 8 marzo vi manderemo comunque la mail da non perdere detto questo grazie grazie a tutti voi che ci seguite ci vediamo fra qualche settimana e buonasera da tutti buona cena e tante care cose ciao grazie buonasera grazie a tutti